Se qualcuno mi sta vedendo anche lui c'ha problemi di gioco e di smettere, è l'unica cosa da fare, smettere. Roberto Valentino, 42 anni, originario di Napoli, ora risiede a Montevarchi con la famiglia. Alle sue spalle una brutta vicenda legata al gioco d'azzardo, ai video poker che Roberto in un momento di rabbia ha distrutto con i suoi pugni. Un nervoso che non potevo perdere più i soldi, pure perché stavo distruggendo anche la famiglia, insomma, alla fine. La vicenda è approdata nelle aule del tribunale di Arezzo, dove Roberto è stato processato e assolto per danneggiamento aggravato. Il motivo della soluzione poggia nella perizia psichiatrica richiesta ed accolta dal giudice la dottoressa Lucia Faltoni, che ha poi riconosciuto la ludopatia come una patologia che ha offuscato gravemente la capacità di intendere di volere di Roberto. Diciamo che questa sentenza si colloca e si innesta all'interno di un solco giurisprudenziale piuttosto innovativo. A livello di corte di Cassazione si è sempre ritenuto alla ludopatia quale mero disturbo della personalità e mai una patologia clinica in grado di incidere sulla capacità di intendere di volere e quindi sull'imputabilità dei soggetti. L'unica cosa che può fare lo Stato è che deve aiutare questi giochi, o perlomeno lo deve… non lo so, qualcosa deve fare, perché le famiglie si ammazzano per questa cosa qua.